La sfida con il Chievo è l'obiettivo settimanale della truppa di Sinisa Mijailovic. Divisi tra campini e palestra al mercoledì doppia seduta di allenamento per i Viola. In mattinata concentrati gli sforzi sulla parte atletica, scatti, navette, circuiti ed esercizi muscolari. Nel pomeriggio, invece, dopo aver pranzato insieme, i Viola sono scesi sul terreno di gioco dei campini per lavorare su parte tattica con attenzione al pressing, seguiti da esercizi di uno contro uno e partitelle a campo ridotto. Domani alle 15 circa, gara d'allenamento in famiglia per la Fiorentina con gli allievi nazionali, ingresso libero al Franchi dalle 14.30 circa nel settore di Maratona. lo camminare No Go onhenge, go! Grazie!